Ha avuto inizio giovedì 12 settembre la nona edizione di Lector in Fabula, con un programma ricco e di sicuro richiamo come evidenziato già in sede di conferenza stampa qualche giorno fa. Gli incontri di quest'anno sono legati a tre parole chiave, divari, squilibri, diseguaglianze. Abbiamo chiesto al direttore del festival, Filippo Giannuzzi, il perché di questa scelta. Ma perché il tema della diseguaglianza è ormai al centro della tensione, le più grosse problematiche in questo momento sono i grandi divari che esistono nella società italiana e tra l'Italia e il resto dell'Europa. EdwebTV ha seguito tra l'altro l'interessante dibattito con Cesare Moreno, che ha presentato il volume Insegnare al principe di Danimarca. Una scuola che parte dal dolore e dall'espressione del dolore. E Giancarlo Visitilli, autore di E la felicità a prof. Moderatore Ezio Sardella. Al termine della prima giornata bilancio molto positivo e comprensibile orgoglio del direttore Filippo Giannuzzi. Come prima giornata è stata una bellissima prima giornata, seguitissima, penso molto apprezzata.